Traffico veicolare a relento oggi verso mezzogiorno lungo la stradale 194 Catania-Ragusa all'altezza dell'ex picnic a causa di un incendio di erbe secche. Solo un luogo per domare l'incendio sono intervenuti i vigili del fuoco del locale destaccamento. Nel Consiglio Comunale, che ha avuto luogo ieri sera a Lentini, si legge in un comunicato stampa della consigliera comunale del Movimento 5 Stelle Maria Cunzolo, ho fatto notare che forse qualcosa non funzionava dal punto di vista normativo in alcune delibere che avremmo dovuto votare da lì a poco. Ho quindi chiesto l'Umi in merito, scrive ancora Maria Cunzolo, premetto che la mia funzione di consigliere comunale è di rappresentare la comunità, avendo diritto di iniziativa o di formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni, proposte di deliberazioni e non di temere che gli atti che mi vengono proposti in Consiglio Comunale possano non avere i giusti requisiti normativi. Per tale controllo altre figure sono preposte. Purtroppo i miei dubbi, scrive ancora la consigliera comunale del Movimento 5 Stelle Maria Cunzolo, erano legittimi. La metà delle delibere di ratifica presentate erano sbagliate, fondate su una norma non corretta da quanto risposto dalla segretaria generale e dalla coordinatrice. Delibere articolate su norme erate, firmate da sindaco e assessori al ramo. Nello specifico si trattava di ratifiche sullo bilancio, verbali dei revisori dei conti che di conseguenza facevano riferimento ad atti non conformi, delibere che vengono visionate nelle commissioni consigliari e che le stesse non si accorgono di nulla. Oltre alla non bella figura che ieri ha fatto tutta l'amministrazione comunale in Avola, si legge ancora nel comunicato stampa diffuso dalla consigliera comunale del Movimento 5 Stelle di Lentini, Maria Cunzolo. Quello che mi fa pensare e mi preoccupa è che un ente così fragile e desestato come quello di Lentini, che avrebbe bisogno di attenzioni particolari, si trova invece ad essere debolissimo dal punto di vista amministrativo ed esposto legalmente. Noi consiglieri siamo esposti, scrive ancora Maria Cunzolo. I cittadini sono esposti. Tutti siamo nelle mani di nessuno, conclude la consigliera comunale del Movimento 5 Stelle, Maria Cunzolo. A seguito dell'incendio avvenuto all'interno dell'ex fabbrica Albasotto Imballaggi, è stata richiesta dai consiglieri di minoranza una confocazione del Consiglio Comunale in seduta straordinaria. Visto l'importante problematica, si legge nella richiesta dei consiglieri di minoranza di rilevante interesse per la salute pubblica. I consiglieri comunali di opposizione, Maria Cunzolo, Francesca Reale, Giuseppe Santocono e Vincenzo Vinci, chiedono alle Presidente del Consiglio Comunale, Giuseppe Innocenti, secondo l'articolo 8,4 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale di indire una riunione del civico consesso in adunanza aperta, avente per oggetto incendio e che sia Albasud del 27 giugno scorso, stato dell'arte della situazione e per conoscere anche le possibili strategie per evitare altri incendi che mettono a repentaglio la salute dei cittadini. Ecco, Sara Vacanti, lei negli anni Ottanta è stato consigliere all'assemblea della vecchia Asli che amministrava il vecchio ospedale, diciamo così. Ecco, oggi abbiamo un problema, il problema della circolare che si ferma a molta distanza dall'ingresso principale dell'ospedale e i cittadini sono costretti a fare a piedi diverse centinaia di metri, ma in altri tempi un problema come questo veniva risolto in tempi rapidissimi? Sì, in altri tempi quando parliamo dell'USL numero 28, quando io ero consigliere all'ospedale di Lentini, questi problemi venivano risolti subito, perché? Perché c'era l'assemblea e il comitato di gestione, oggi non abbiamo né l'assemblea e né il comitato di gestione, si trova il manager a Siracusa, quindi i problemi sono molto staccati del posto dove c'è l'ospedale, ma non significa questo che la gente deve andare all'ospedale e deve fare centinaia di metri a piedi, ma non solo a piedi, ma sono di salita. Per ultimo c'è una scalinata che lei ha visto sicuramente, che se uno deve fare un tracciato, quando se lo fa quando arrivo a piedi, non so come, risulta molto praticamente, comunque a parte lo scherzo io dico questo, che questo problema già da mesi che si discute a Lentini, a Carlentini, a Francofonte e chi viene all'ospedale di Lentini, perché questo ospedale di Lentini voglio ricordare a me stesso e a tutti quelli che ci ascoltano, è stato scelto per il posto strategico che copriva tutta la zona e di dove si arrivava era facile e non si doveva attraversare neanche la città di Lentini, quindi è stato fatto questo ospedale qua per un posto bellissimo. Noi abbiamo questa struttura che è bellissima, abbiamo dei medici bravi a Lentini, vengono qua di mensa Sicilia o addirittura di tutta la Sicilia perché giornalmente uno che viene all'ospedale, vede persone che vengono, addirittura l'altro giorno mi trovavo qua con il mio suocero, c'era gente che venivano di Cesarò per venire a Lentini a fare le visite nella chirurgia perché avevano indicato che qua c'era la medicina buona, diciamo a Lentini medici buoni. Ora io dico questo per concludere, risolviamo prendendo questo problema che un anziano che deve andare perché ora poi ci sono stati qua tre spariti anche l'ambulatorio che prima erano a Leccesinam, quindi qua all'ospedale vengono tutte le persone anziane, meno anziane, persone disabili, non abbiamo le strutture. Ora io dico che i consigli comunali soprattutto di Lentini, Carlentini, Francofondi, i sindaci si debbano mettere in modo che dobbiamo salvaguardare questo ospedale, che ci lo invidiano tutti, tutti noi abbiamo, non un ospedale, noi abbiamo un abbergo a qua a Lentini, lo diciamo a voce alta. Io mi ricordo una sera sono venuto qua con il Presidente allora Guido Grande, quando abbiamo scelto questo posto, ero io Guido Grande, Paolo Innocente e Elio Magnano, era una sera del mese di febbraio nell'82-83, prima di fare la delibera per la costruzione dell'ospedale, era meraviglioso qua, quando noi siamo qua, siamo visti l'Etna che era coperta di neve, una luna bellissima, il punto qua è bello, ora noi lo dobbiamo stare a guardare. Io suggerisco come è il mio costume di fare, perché io quando ero consigliere comunale a Carlentini due o tre volte l'anno facevamo, su mia proposta, potete andare a vedere gli atti al comune di Carlentini, facevamo consigli informali sulla sanità del triangolo, perché quello che ci fa forte è soprattutto il triangolo, ma io ora allargo di più, noi abbiamo un'utenza che è Lentini, Carlentini, Francofonte, Melilli, Sortino, Buccheri, Vizzini, Melitello, Palagonia, Scordia, che vengono tutti qua, ci limitiamo a questo punto, ora io lancio un appello di fare un consiglio di tutti i sindaci, di quelli che ho poco fa nominato con tutti i consigli comunali, a Lentini, se qualcuno non lo fa che ci ascolta, mi faccio promotore di infiare le lettere io, troveremo il locale dove farlo, però si deve fare prima delle ferie, dobbiamo affrontare questo problema dell'ospedale di Lentini, lo dobbiamo salvaguardare e tutta l'utenza che io ho citato poco fa deve essere coinvolta, perché con le battaglie, con le lotte si possono vincere come abbiamo vinto la battaglia dell'ospedale di Lentini che è stata dura ma l'abbiamo vinto e oggi abbiamo questa grande struttura che è meravigliosa, e lo dobbiamo noi salvaguardare. Apprendiamo proprio in questo momento che il sindaco di Carlentini, Giuseppe Stefio, ha avuto oggi un incontro a Siracusa con il commissario dell'Aspe, dottor Mateddu, per risolvere il problema della fermata dell'Aste all'ospedale di Lentini. Nei primi giorni della prossima settimana la circolare dell'Aste non si fermerà più all'esterno dell'ospedale, bensì davanti all'ingresso principale del nosocomio lentinese. Un problema che il nevo sindaco di Carlentini ha affrontato anche in campagna elettorale e che ha risolto nel giro di poche settimane dalla sua elezione. Mentre al sindaco di Lentini, Saverio Bosco, non sono bastati oltre due anni e mezzo di attività amministrativa per riaffrontare questo elementare problema.